Arel è un'associazione che adesso è arrivata a otto anni dalla sua costituzione, quindi a festeggiare il suo nono compleanno. Si tratta di donne del settore immobiliare, quindi questo è il fattore che ci accomuna e racchiude all'interno tutte le professionalità che possono essere appunto rappresentate all'interno di questo mondo e nasce da un'esigenza in un mondo poi fondamentalmente occupato soprattutto nelle posizioni più importanti dal sesso maschile di poter dare l'opportunità a donne che appunto si occupano e che rivestono vari ruoli in questo settore di potersi conoscere, di potersi supportare dal punto di vista professionale e nello stesso tempo poter fare all'interno di questa nostra associazione formazione, informazione, far circolare appunto gli eventi alle quali poter partecipare e nello stesso tempo appunto creare una community. All'interno del mondo immobiliare c'era questo spazio che è rimasto vuoto e quindi grazie all'iniziativa di alcune delle nostre soci fondatrici è nata questa idea di creare quindi questa associazione di donne e adesso nel tempo siamo arrivati a dei numeri già abbastanza importanti siamo intorno alle 220 associate che sono collocate comunque su tutto il territorio con una predominanza comunque nei due centri principali quindi su Milano e Roma però anche con altre associate in altri centri della nostra nazione.